sta registrando sta registrando adesso sentirai un po' d'aria che entra perché c'è il traino di vicino chiuso la mia capottina eccoci qua pronti eh si ok adesso si alza l'ala adesso chiude i diruttori pronti alla partenza adesso sentirai un po' di frastuono eh ecco che si va 3,2,1 e siamo in volo tutto bene? Sì grande siamo ancora a pochi metri dalla pista tutto a posto? Sì grande adesso abbiamo l'aereo a circa 20 metri davanti a noi lo stiamo seguendo adesso siamo a circa 50 metri di altezza la velocità è di 120 all'ora ti piace? Sì davanti a noi abbiamo Remantacco stiamo facendo una lenta virata a destra allora sei pronto allo sgancio? Sì dimmi tu 3,2,1 e poi lo sgancio 3,2,1 dove siamo? Eccoci siamo da soli e adesso siamo senza motore da soli nell'aria senti che differenza quanto è più silenzioso? Sì ti lascia godere questo silenzio un po' sì adesso stiamo virando a sinistra leggermente sì adesso raddrizziamo il muso eccoci sì adesso stiamo volando a 70 all'ora e stiamo scendendo un metro al secondo allora senti i suoni di cui ti parlavo se io tipo faccio una virata a sinistra così senti come lui ti parla sì senti come ti parla sì se poi tu non la fai bene la virata tipo così senti come cambia? senti? sì oppure così adesso stiamo andando dritti abbiamo il muso dritto sì 80 all'ora adesso andiamo a destra ottimo mi piace? sì adesso proviamo a farti sentire più leggero e più pesante ok? sì dimmi tu se è tutto ok altrimenti mi fermo sì sì dai allora così ci si sente più leggeri com'è? e acceleriamo così invece senti? com'è come sensazione? sì mi piace? sì mi piace? vuoi rifare? sì ok leggeri e pesanti vedete l'avanti adesso andiamo in alto a destra senti che rallentiamo ok adesso adesso ti è piaciuto? sì adesso facciamo con la figura del compasso va bene? sì ok? sì 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 200 all'ora andiamo su in verticale senti adesso eccoci com'era? la rifacciamo? sì ok su in verticale qua siamo fermi senti l'assenza di gravità sì adesso facciamo un giro della morte ok? sì com'è? siamo testa in giù adesso adesso riprendiamo lo rifacciamo lo rifacciamo lo rifacciamo lo vuoi rifare? verticale testa in giù senti com'è? ti piace Lu? sì bravo facciamo ancora un compasso stiamo vuoi fare il passaggio bassissimo veloce sui tuoi? sì ma sì vai ok allora ci posizioniamo adesso siamo a 150 all'ora ok? sì quando saremo veramente a mezzo metro da terra io te lo dirò mi raccomando eh? ok? sì andremo fino a 280 all'ora sì va bene Lu? sì va bene quando? adesso ci posizioniamo adesso abbiamo la pista alla nostra destra ci sistemiamo un po' a sinistra e prendiamo velocità e facciamo il passaggio ok? sì dopo dovrò tirare su e poi riatterremo immediatamente ok? allora adesso la pista si sta avvicinando prendiamo velocità tutto bene? sì ottimo vediamo velocità 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 280 all'ora sì metto metro da terra come è stato? bello hai visto quanto corre? sì hai sentito? sì è pazzesco andavamo velocissimi Luca velocissimi sì andavamo a 280 all'ora sì adesso siamo molto bassi sblocco i diruttori eccoci qua e adesso adesso dobbiamo atterrare perché siamo bassi adesso stiamo virando verso destra ci allineiamo con la pista e poi atterriamo ok? mancano circa 20 secondi eccoci qua adesso ci allineiamo senti che io scendo un po' senti? sì questo effetto ok? adesso qua morbidi 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 ok? ecco siamo a pochissimi centimetri da terra pochissimi 3 2 1 detocchiamo ora eccoci qua che siamo fermi di nuovo di nuovo sì è così di nuovo lo vuole rifare e adesso siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati come è Luca? bello bravo che la morte hai fatto allora tanti giri tanti guarda che è la videocamera davanti a te devi invitare tutti a provare questo che è bello eh? ti è piaciuto? come è stato Luca? guarda che ti tolgo tutte queste cose ce l'hai fatta? com'è pauroso? nooo ragazzo mi diceva vai di più vai di più è stato bello Marco aiutalo adesso arrivo qua lo fa sopra casa mia lo fa sì siamo passati anche sopra lì sopra il manzacco sopra no abbiamo chiamato tua mamma eh Luca anche il 118 per provare a recuperare non si preoccupare eccoci eccoci dai grampiti grampiti tra di me no ma forse si sta attacca qua aspetta aspetta qui 1 2 3 via oppa su 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 tirati su bravissima ok bravo adesso senti come uscire da una vasca da bagno no 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 aspetta Luca dalla parte di Marco verso di me addia aggrappati a me prenditi aggrappati a me tranquillo 1 2 3 ok trasportato abbiamo regalato l'abbiamo tirato fuori a posto è stato bello abbiamo regalato un momento è stato bello eh sono emozioni forti eh però si bisogna specialmente per lui eh ma queste cose aiutano ad andare avanti eh per loro sì anche per l'altro l'aria un po' mamma mia Luca non ti è venuto mal di testa no la prima volta mi sono stato male un giorno e mezzo eh Luca mi ha detto che gli dicevi di andare sempre più forte complimenti è stato bello eh è tosto? e le orecchie bene bene tutto ok sì ok ok grazie 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 grazie